Io sono Carlo, vengo da Fornia e ho ritenuto che queste sono delle bellissime iniziative che fa la nostra grande squadra, anche per far vedere tutte le sue bellezze a noi che siamo un po' lontani da Milano, noi siamo dei grandi sostenitori dell'Inter, lui e Simone è mio figlio e noi quando guardiamo l'Inter impazziamo, siamo pazzi dell'Inter. Ciao!